La dolina carsica di Gurgo nel territorio di Andria e il ponte romano sull'ofanto di Canusa di Puglia sono i luoghi del cuore nella sesta provincia più votati dagli italiani rispettivamente con 16.709 e 25.863 voti. Il ponte romano si è classificato all'ottavo posto mentre la dolina carsica del Gurgo al diciassettesimo. La pubblicazione della classifica ufficiale e definitiva è avvenuta in questi giorni dopo il ricevimento ed il controllo dei voti espressi non solo online ma anche attraverso la raccolta firme messi in campo direttamente dalle associazioni sui territori interessati. Nei prossimi mesi si aprirà una nuova importante fase di lavoro. I primi tre classificati in Italia in qualità di vincitori del censimento se ne avranno i requisiti riceveranno un contributo a fronte della presentazione di un progetto da concordare. Inoltre i referenti dei luoghi che hanno ottenuto almeno 1.500 voti potranno candidare al FAI attraverso il bando che verrà lanciato a marzo 2017, una richiesta di intervento legata a progetti concreti attuabili in tempi certi e dotati di un confinanziamento che garantisca un sostegno reale dei territori di riferimento. Come nelle edizioni precedenti FAI e Intesa San Paolo selezioneranno entro il mese di novembre i luoghi vincitori in collaborazione con il MIBACT. Un risultato comunque molto positivo per le associazioni del territorio della sesta provincia che con grande passione ed impegno sono riusciti a coinvolgere oltre 40.000 cittadini, numeri nettamente superiori alle altre province pugliesi. Ci si auspica che questo risultato sia volano per progetti concreti di recupero dei due beni storici e naturalistici visto il grande interesse dimostrato dai cittadini.